Benvenuti alla seconda parte di Pokemon Battle Revolution Ora lotteremo nella nostra prima arena Che non farò l'arena galleggiante ma farò l'arena cascata Che è una delle più difficili Mettiamo una nota in doppio E' perfetto Mettiamo questo battle pass Ok allora mettiamo due Ci possiamo mettere sicuramente un tipo fuoco E' un tipo fuoco Poi Garchomp Ci mettiamo Lucario E questa è il Duxmort E' il Duxmort E' il Cooper tra la nostra prima notte Lotta di squadra dell'arena cascata Lotta 1 Che tipo di lotta dobbiamo aspettare Questa volta dal nostro spiegato Ok Cominciamo già come sta rabbia Allora vedrai facciamo No no incendio no Facciamo lancia fiamme Sta rabbia E l'Empolion fa Idro cannone Su No no Fa idropompa su D'A3 Scusate la mia storia E' il paraffica Non fa niente E lui fa idropompa Che non basta Ah no Ha resistito Allora noi ne facciamo incendio E abbiamo vinto E allora fai acqua di sale Scusate il primo errore Ho sbattuto il piede Ok ho battuto la prima parte come cavolo si chiama Ora sfideremo la seconda parte Scusate il primo errore Luca ragazzo Metapod e Garaveller Quindi Pietratai No no Fai Giga Impatto Su Metapod E te Luca Vole che fai Una bella zuffa Su Graveller Ammazzati Metapod E c'è fuori gioco Un colpo di rompenza Graveller Resiste a malattia Lui ha fatto tutta massica Una buona mossa Un attacco multico Che continua a causare tanti Ultimo colpo infatti Toglie un po' di più E Lucario Si fa un po' di più Noi facciamo Una forza sfera E guardate Guardate Non riesce ad agire Sembra Goku Lucario mi piace troppo come Poglie L'incontro è finito E' una vittoria letta per il team blu Mi ha vinto Va allora alla prossima parte Farò un altro video E spero che vi piaccia Adios E' un po' di più